I finanzieri di Palermo hanno sequestrato 100 piante di marijuana e un chilo di marijuana già essiccata trovate in un rustico in contrada porcara a Bagheria. I militari, con l'aiuto dei cani antidroga di Punta Rai, si sono entrati nell'edificio e hanno identificato due uomini che stavano coltivando la marijuana. La piantagione era prodotta in serra, in un capannone attrezzato, con generatori di corrente capaci di alimentare un impianto di areazione e umidificazione e un sistema di luci artificiali costituito da 19 lampade a incandescenza. Il sistema assicurava la rapida crescita e una rigogliosa fioritura della coltivazione. Le fiamme gialle, nel corso delle perquisizioni, hanno trovato anche le inflorescenze di marijuana già essiccate e pronte per essere vendute nelle piazze di spaccio. I due uomini sono stati denunciati alla procura di Termini Merese con l'accusa di coltivazione di droga. Il sistema di areatori e di lampade era allacciato abusivamente alla rete elettrica. Il sistema di areatori e di lampade era allacciato abusivamente alla rete elettrica.